Agenzia territoriale per la casa di Alessandria nella bufera. Il presidente del consiglio d'amministrazione di recente nomina, Marco Balossino, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha rivelato che dai controlli effettuati di recente in occasione della fusione delle agenzie delle case popolari di Alessandria, Aste Cuneo, è saltato fuori che nella contabilità dell'ATC di Alessandria nel triennio 2006-2008, quindi dieci anni fa, ci fu un ammanco mai rilevato che si aggirerebbe intorno a 1.800.000 euro. Il neopresidente Marco Balossino ha comunicato di aver fatto due esposti, uno alla Procura della Repubblica e l'altro alla Procura della Corte dei Conti di Torino e poi ancora alla sospensione cautelativa del dirigente ed ex direttore dell'ATC Alessandrina, l'ingegnere Riccardo San Sebastiano, il quale ricopre la carica di direttore dell'Agenzia della Casa dal 2004 e che avrebbe autorizzato questi pagamenti. In tutti questi anni, dal 2004 ad oggi, si sono avvicendati diversi presidenti con posizioni politiche anche completamente diverse. Adesso però il nuovo Consiglio d'Amministrazione ha deciso di sospendere San Sebastiano in attesa di ulteriori indagini per capire che fine abbiano fatto quasi 2 milioni di euro spariti in quel breve periodo di 3 anni. Tecnicamente questi soldi sarebbero stati pagati ad un'impresa edile che però ha dichiarato di non averli mai incassati. I conti correnti infatti in cui confluirono i soldi non sono intestati a quell'azienda. La società di controllo contabile Deloitte non ha ancora terminato il suo lavoro di analisi di tutti i conti. La storia potrebbe portare ancora ulteriori sorprese. Tutti gli intervenuti alla conferenza stampa, compreso l'assessore regionale Ferrero, hanno tenuto a ribadire che in tutto questo gli inquilini delle case popolari non hanno nulla da temere. Ad essere coinvolto il settore dei lavori pubblici, non certo degli inquilini e tantomeno gli operatori che sono tutti i giorni impegnati nel far funzionare cantieri di costruzione e manutenzione non saranno toccati da queste vicende giudiziarie.